Uomini e donne, dopo che Lorenzo si è dichiarato, Sara va in esterna con lui. Dopo la decisione di Lorenzo di dichiararsi per Niloufar, Sara lo porta in esterna. Il trono classico di Uomini e donne continua a regalare colpi di scena, la protagonista dell'ultima sorpresa è Sara Affifella. La tronista, dopo aver chiamato in studio un ex partecipante di Temptation Island, con cui vuole approfondire la conoscenza cominciata all'epoca del programma, ha deciso di stupire il pubblico, ma più che altro seguire i suoi sentimenti. Le anticipazioni di quello che è successo in un'estensione in questi giorni. Lorenzo Riccardi in esterna con Sara. Lorenzo Riccardi, dopo aver deciso di dichiararsi per Niloufaradati, è stato invitato ad uscire in esterna da Sara Affifella. Un colpo di scena inaspettato, la tronista e il corteggiatore sono stati avvistati in giro in esterna e le foto postate stanno creando stupore. E ora? Niloufaradati e gli altri protagonisti come prenderanno la novità? Le due giovani troniste si sono contese alcuni corteggiatori sin da subito, ma Lorenzo in particolare. Da quando è iniziato questo nuovo trono femminile, le due ragazze sono uscite con Lorenzo più volte. Ad un certo punto Sara lo aveva eliminato, ma lui continuava a lanciargli frecciatine e, dopo una serie di commenti via social, lei aveva deciso di uscire con lui nuovamente. Negli ultimi giorni però, dopo le due esterne con le rispettive troniste, Lorenzo aveva scelto di continuare solo con Niloufar. Sara silenziosa in studio, dopo la sua decisione, ha poi stupito tutti facendo questa nuova esterna con lui, che a quanto pare non ha disdegnato le sue attenzioni. Il corteggiatore cambierà idea. Uomini e donne, Lorenzo e Sara fotografati insieme. A far pensare che la sua decisione non sia definitiva è anche una diretta Instagram, in cui sono continuate le frecciatine a Sara da parte di Riccardi. Lorenzo dopo la decisione ha continuato a lanciare segnali alla tronista campana, che poi lo ha invitato ad uscire ancora con lei. Per il momento non ci sono altre notizie, i due sono stati fotografati insieme in una locazione elegante, in cui erano molto vicini. Sara e Lorenzo hanno un feeling particolare, ma lei è stata nei primi incontri molto sulle difensive, non credendo tra l'altro nel reale interesse del corteggiatore. La delusione per la fine della storia con il suo ex fidanzato a Temptation Island, ha portato la giovanissima tronista a irrigidirsi eccessivamente, ora sembra pronta a essere più socievole, cosa succederà nella prossima puntata? Non perdetevi le nostre prossime news per sapere in anticipo le novità su uomini e donne, vi terremo informati sugli sviluppi della storia. Per ricevere le nostre notizie basta cliccare sul tasto sedi, riceverete tutte le news pubblicate sui social o nella mail.